Cari amici oggi realizzo questo video per farvi vedere il prodotto al 360 gradi stiamo parlando di questo rubinetto per bidet cromato allora faccio un primo piano ok è una linea nuova vedete faccio vedere anche di sotto il tutto viene spedito con i flessibili per il montaggio c'è tutto abbiamo anche il sacchettino e così c'è anche quello per lavabo se si vuole fare anche la coppia che è quello più lungo il tutto viene spedito con corriere SDA